giornata di balzo in avanti nei contagi marche attenti alla variante delta siccità scattano i divieti di prelievo dai fiumi terminano gli esami di stato gli ultimi per la preside anna gennari il biodigestore secondo l'analisi scientifica del professor raccinelli buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre questa è rossini news questo è il nostro telegiornale telegiornale di giovedì primo luglio che apriamo occupandoci della situazione sanitaria nella nostra regione dopo una media di circa 8 15 contagi al giorno nell'ultima settimana oggi il bollettino del servizio sanitario regionale ha rivelato un balzo in avanti di 46 casi in sole 24 ore una mare sorpresa l'ha definita così il governatore della regione marche francesco acquaroli che ha auspicato che il dato di oggi resti un caso sporadico ma nel frattempo ha convocato un vertice fra le prefetture delle marche per monitorare la situazione il timore che la variante delta possa cominciare a prendere largo sul nostro territorio e si vogliono immediatamente contenere eventuali cluster va chiarito che la maggior parte dei casi rilevati oggi appartengono alla fascia anagrafica 15 24 anni e più della metà dei casi cioè 27 sono riferibili alla provincia di ascoli piceno soltanto due quelli invece rilevati nella provincia di pesaro e urbino ed oggi primo luglio è scattata una ordinanza regionale di limitazione al prelievo d'acqua pubblica per quel che riguarda il bacino idrico del metauro e l'invaso del furlo si tratta di una disposizione dovuta al perdurante stato di siccità come misura di salvaguardia all'approvvigionamento di acqua potabile per quel che riguarda la provincia di pesaro urbino giugno si è chiuso con pochissima pioggia si abbassano i livelli dei corsi d'acqua e allora luglio comincia all'insegna delle limitazioni ai prelievi dal bacino idrografico del fiume metauro e quanto previsto da un'ordinanza della regione marche entrata in vigore oggi primo luglio e che resterà tale fino al 15 ottobre si tratta di una misura di salvaguardia del sistema d'approvvigionamento idropotabile della provincia di pesaro urbino con limitazioni che prevedono la sospensione di tutti i prelievi d'acqua pubblica dai corsi idrici nel tratto compreso tra l'invaso del furlo e la foce del metauro come su alcuni tratti del candigliano e dello stesso metauro c'è invece il limite del 50 per cento della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione per quel che riguarda i corsi d'acqua presenti a monte del bacino del furlo ovvero candigliano metauro burano biscubio bosso torrente bevano certano e relativi affluenti le limitazioni non si applicheranno ai prelievi destinati all'uso idropotabile e alla beveraggio del bestiame violare la disposizione comporta una sanzione amministrativa fra i 3.000 e i 30.000 euro dalla siccità agli incendi si passa a due facce della stessa medaglia figlie del grande caldo di questi giorni roghi sempre più frequenti con le alte temperature e anche dal comando dei vigili del fuoco provinciale sono partiti in giornata interventi per quello che riguardava una macchina imballatrice che ha preso fuoco nella zona di case bruciate in questo pomeriggio e per un altro rogo di sterpaglie a fano vigili del fuoco che sono anche intervenuti per estinguere il rogo di un camioncino in fiamme nel tratto autostradale di competenza pesarese ancora a cronaca due albanesi di 35 e 37 anni residenti a borgo massano sono stati arrestati dai carabinieri per traffico di stupefacenti e sono ora detenuti nel carcere di villa fastigi i due albanesi rifornivano di cocaina una grossa fetta dell'interland pesarese avvalendosi di una fitta rete di soggetti che oltre ai due mandati d'arresto hanno infatti provocato in questa giornata anche sei perquisizioni i due albanesi smerciavano droga attraverso un'articolata operazione di staffetta e bonifica vale a dire che facevano il carico di cocaina e poi nel corso del loro tragitto di distribuzione cambiavano auto per eludere i controlli allo stesso modo per evitare ogni perquisizione in casa seppellivano i carichi di stupefacenti nei terreni agiacenti a vecchi casolari abbandonati per poi di sotterrare i quantitativi richiesti a seconda delle loro esigenze di spaccio si è inoltre scoperto che i due erano soliti tagliare la cocaina con della creatina cioè con un integratore alimentare bianco in polvere incidente mortale questa mattina sull'autostrada A14 all'altezza del casello Ancona Nord a perdere la vita attorno alle 11.30 di mattina un 73enne di Legnago in provincia di Verona finito contro un guardrail per cause in via di accertamento sul posto è intervenuta la polizia stradale di Fano e la croce verde di Falconara e sono gli ultimi giorni per l'esame di Stato 2021 per i 3.000 maturandi della città di Pesaro un esame che ad esempio si è però già concluso all'istituto Bramante Genga ed è stato un esame in questo istituto ancora più particolare perché è stato l'ultimo per la dirigente scolastica Anna Gennari che a settembre andrà in pensione ascoltiamola in questa nostra intervista Gli esami si sono conclusi e io devo dire che sono piuttosto soddisfatta perché abbiamo avuto innanzitutto anche un bel numero di studenti che hanno conseguito al massimo dei risultati quindi 100 e 100 LOD 20 ragazzi su 121 candidati quindi insomma è una buona cosa hanno in questo periodo di difficoltà che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni questi ragazzi hanno dimostrato insomma di aver tenuto duro di essere questa resilienza di cui tanto si parla l'hanno proprio diciamo dimostrata tutti gli effetti certo il dispiacere di non aver potuto avere un anno un anno e mezzo ormai insomma così tranquillo dove poter avere i ragazzi tutti i giorni a scuola poter condividere con loro questa parte finale del loro percorso di studi è sempre diciamo un dispiacere però ecco devo dire che insomma i ragazzi ecco hanno sicuramente è mostrato poi di saper reagire anche a questa difficoltà che la vita ti mette di fronte e quindi bisogna poi trovare le risorse per superare anche questi momenti difficili e loro l'hanno fatto sicuramente quindi io faccio un bel in bocca al lupo per il loro futuro e naturalmente dico loro sempre come ho sempre detto ecco non mollate mai ragazzi questi sono stati anche gli ultimi esami di Stato arriverà a settembre la pensione dopo 40 anni di carriera divisa tra insegnamento e dirigenza scolastica immagino sensazioni importanti in questo momento certo più di 40 anni addirittura 42 anni tra 19 anni di dirigenza tra preside incaricato noi dirigente e poi appunto tutto il resto come anni di servizio a scuola quindi per me i ragazzi sono sempre stati al centro della mia attenzione naturalmente perché è chiaro prima come docente poi come dirigente ecco il mio lavoro e l'amore che ho sempre avuto per il mio lavoro è diretto insomma ecco a loro cioè a cercare di davvero dare qualcosa a questi ragazzi che poi rappresentano il nostro presente adesso ma il nostro futuro di domani ecco e sono molto emozionata sì devo dire poi ancora non sono arrivata all'ultimo giorno perché l'ultimo giorno sarà il 31 agosto e sono convinta che per come ormai mi conosco ecco sarà sarà dura diciamo non far scendere qualche lacrima dai miei occhi perché insomma ecco è stato è stato un percorso molto bello sia da docente ho sempre avuto delle grandissime così soddisfazioni e anche da dirigente certamente come dico ci sono stati anche dei momenti di preoccupazione dei momenti no anche tristi ma poi sono magari piccole cose ecco un ringraziamento di un ragazzo di un genitore di un docente che riconosce magari il lavoro che stai facendo ecco e ti ridanno la forza per andare avanti soprattutto voglio ringraziare i docenti che mi hanno sempre dico io supportato ma anche sopportato no i miei collaboratori quelli del team che hanno diciamo mi hanno proprio dato anche la forza di superare alcuni momenti di difficoltà soprattutto in questo periodo no di emergenza pandemica poi voglio ringraziare anche tutto il personale ATA che naturalmente ha diciamo sempre ci si accorge no di loro magari quando a volte mancano ma fanno un lavoro continuo anche loro no sia per quanto riguarda gli uffici sia per quanto riguarda i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici che sono stati tanto importanti ma anche ecco tutte le persone che fanno parte del mondo del lavoro gli enti no diciamo gli enti con cui i nostri studenti anche spesso hanno occasione di collaborare il comune la provincia le varie aziende la camera di commercio Confindustria noi abbiamo avuto in questi anni veramente tanti ma tanti rapporti anche per permettere ai ragazzi di esprimere e di portare avanti quella la parte del percorso scolastico che oggi si chiama PCTO che una volta si chiamava alternanza scuola lavoro e poi anche l'ufficio scolastico provinciale che naturalmente nella persona della Toressa Tinazzi che da poco anche lei appunto ha lasciato questo percorso e di tutti i funzionari con cui appunto ho avuto modo di collaborare perché insomma anche senza di loro ecco poi è molto difficile poter pensare di avere il personale a scuola eccetera e naturalmente poi dietro c'è l'ufficio scolastico regionale che dirige ecco anche se Dancona dirige appunto tutto il nostro percorso e questa mattina Villa Imperiale ha accolto brand come Audi o Swarovski in un progetto di turismo ambientale che si unisce a tecnologia smart e mobilità elettrica vediamo tutto in questo servizio il turismo ambientale sposa la mobilità elettrica e la tecnologia intelligente così nella cornice di Villa Imperiale il Parco San Bartolo ha oggi accolto Audi e Swarovski come partner strategici all'insegna di valorizzazione sostenibile del territorio collinare affacciato sull'Adriatico una cosa innovativa viene presentata che si sposa perfettamente su quello che è il parco che è l'ambiente la tutela di quello che è l'ambiente sul nostro territorio ma ancora di più scegliere da parte di questa azienda questa location meravigliosa perché siamo a Villa siamo a Villa Imperiale quindi uno degli esempi diciamo rinascimentali di ville insomma più importanti d'Italia e se non il più importante non può essere che una cosa così importante per il parco perché consente di essere portato all'attenzione a livello nazionale e a livello internazionale quindi cosa non trascurabile per quelli che sono gli operatori del parco per quelli che potrebbe essere il parco la risorsa per le attività del territorio quindi ci si chiede il parco come è cambiato a partire anche dal 2020 e che ruolo ha adesso in questo diciamo cambiamento che c'è stato anche a seguito di questa emergenza sanitaria sicuramente ha un ruolo molto più importante una riscoperta di quelli che sono i nostri territori la natura l'ambiente che si deve però necessariamente sposare con quelle che sono le altre risorse che sono quelle economiche grandi brand a Villa Imperiale che per l'occasione hanno presentato il binocolo intelligente DigiGuide di Swarovski Optic Italia e il SUV al 100% elettrico Audi Q4 e-tron con questo monocolo che è dotato anche di una macchina fotografica è possibile scattare la foto ad esempio di un uccello e poi riconoscerlo perché questa macchina si collega al proprio smartphone e attraverso un'application viene riconosciuto anche la specie di uccello e in questo modo è possibile così essere più consapevoli andare in giro osservare la natura e conoscerla ancora meglio finalmente Audi oltre ad aver fatto uscire versioni di alto di gamma come E-tron e E-tron e E-tron GT e RS GT che sono tutti i volumi di alto di gamma quindi diciamo con un posizionamento di prezzo piuttosto alto presentiamo Q4 che ha un posizionamento di prezzo strategico e anche i vantaggi dell'eco bonus è una vettura che io consiglio sia chi la usa in città sia chi la usa nel nostro urbano ma può essere benissimo utilizzata in autostrada un bellissimo colline come le nostre che sono diciamo oltre ad essere il nostro punto di forza della nostra zona diciamo riuscire a farle con una vettura a emissioni zero uniamo l'utile al dilettevole quindi una macchina assolutamente di qualità senza inquinare o quindi green senza intaccare l'ambiente ancora tematiche ambientali ma parliamo ora delle biodigestore che Green Factory di Marche Multiservizi ha programmato di realizzare fra la piana di Talacchio e il territorio comunale di Tavuglia ce ne occupiamo oggi dal punto di vista strettamente scientifico accogliendo l'intervento dell'entomologo Gian Umberto Accinelli che ascoltiamo nel servizio realizzato da Emanuela Rossi siamo con il professore Accinelli entomologo scrittore trasmette la sua passione per la natura in progetti di eco-narrazione i suoi interlocutori sono ad esempio le scuole le aziende le associazioni e tutte le persone che vogliono raccontare la natura vi racconto un po' di lui è stato selezionato dal Corriere della Sera tra le 20 persone che stanno cambiando l'Italia Gian Umberto Accinelli unisce quindi alla passione per gli insetti un forte spirito ecologico da ormai tre anni racconta anche le sue storie di natura su Radio DJ è ospita infatti del programma televisivo Bel Tempo Si Spera su TV 2000 e di Geo & Geo su Rai 3 recentemente ha vinto il prestigioso premio di letteratura per l'infanzia German Youth Literature Award il più importante premio europeo per la letteratura per ragazzi siamo molto contenti di averla qui con noi a Rossini TV professore l'abbiamo chiamata perché nell'incontro che tra l'altro abbiamo anche noi ripreso che c'è stato il 14 giugno a Padiglione non c'è stata purtroppo la possibilità di ascoltare il suo intervento qual era il messaggio? ma era molto semplice era raccontare l'esigenza la necessità di un bidigestore cioè di un impianto capace di trasformare di prelevare l'energia ancora contenuta nei rifiuti organici e appunto trasformarle in qualche cosa di utile per la società il biometano da una parte per far funzionare sia le nostre automobili sia il nostro riscaldamento e il compost un ammendante fondamentale per l'agricoltura ecco gli impianti di questo tipo sono fondamentali appunto perché rendono i rifiuti una risorsa basti pensare alla produzione di compost e del biometano come lei sa le città tra l'altro devono gestire il tema dei rifiuti in generale e anche quelli organici in modo particolare e oltre a ciò c'è una ragione biologica la fame energetica dell'uomo esistono quindi delle soluzioni? ne esistono tante però si parte tutto da appunto una capacità energivora dell'uomo cioè l'uomo ha bisogno di tanta energia soprattutto perché l'homo sapiens è un gigante è un gigante particolare perché ha solo un organo gigantesco che è il cervello e che chiede a fame di glucosio e di energia ecco perché nel corso della sua storia l'homo sapiens ha dovuto costruire degli ecosistemi artificiali come l'agricoltura l'agroecosistema e le città ambienti artificiali anche loro energivori che necessitano tanta energia ecco perché dobbiamo in qualche modo imparare a prendere l'energia a ottimizzare l'energia e quindi possiamo dire che il biodigestore utilizza un processo naturale? assolutamente il biodigestore utilizza la fermentazione il piantico dei metabolismo degli organismi viventi ci sono esistono dei batteri e anche dei funghi capaci di digerire le sostanze organiche ma non di portarle a compimento ma di trasformare la sostanza organica in biometano e compost biometano grazie a una fermentazione anaerobica cioè in assenza di ossigeno e invece attraverso un processo aerobico cioè in presenza di ossigeno invece si forma il compost ecco ci sono delle criticità invece per quanto riguarda la salute delle persone? assolutamente no è vero che da una parte durante la fermentazione si producono delle sostanze dannose ma queste permangono all'interno e quindi le persone non entrono in contatto con sostanze dannose queste sostanze hanno una peculiarità emettono delle sostanze volatili cioè degli odori per dirle in maniera semplice odori decisamente sgradevoli perché ci devono in qualche modo avvertire della potenziale pericolosità della fonte di partenza ecco e non ci sono motivi per pensare che siano dannosi per la salute? cioè dovremmo ingerirli e ovviamente non lo facciamo questi gas non sono dannosi sono dannosi a concentrazioni elevatissime sono sicuramente sgradevoli sono l'urea e quello che viene chiamato dei prodotti a base di zolfo che odorano di uovo marcio ecco e questi odori come vengono gestiti? vengono trattenuti all'interno del biodigestore il biodigestore ha una pressione negativa cioè è il contrario del palloncino all'interno di un palloncino gonfiato la pressione è maggiore rispetto a quell'atmosferica quindi quando lo buchiamo l'aria esce ecco il biodigestore funziona esattamente al contrario se lo bucassimo l'aria entrerebbe e questo lo utilizziamo per far fuoriuscire per eliminare i cattivi odori gas di scarico attraverso un processo attivo questo processo attivo prevede il convogliamento di questi gas attraverso dei filtri filtri anche loro biologici sono composti da legno sul legno ci sono dei batteri affamati sia da azoto sia di zolfo saranno loro che preleveranno queste sostanze mitigando e annullando i cattivi odori ecco perché gli impianti creano tensione? sicuramente non per motivi ecologici ci sarà io ovviamente non lo posso sapere però sicuramente non per motivi ecologici professore abbiamo sentito parlare di una criticità legata alla combustione ma la combustione non è un problema anch'esso è un processo assolutamente ecologico e naturale il problema è la combustione di anilide carbonica ma soprattutto di carbonio fossile perché quello interagisce con il ciclo del carbonio e aumenta la CO2 ma la combustione in sé non è assolutamente un problema lo facciamo noi regolarmente quando respiriamo per intenderci sono pericolosi i camion che trasportano la sostanza organica dalle marche ad altre regioni del nord Italia piuttosto che la combustione in sé e concludiamo con il nostro consueto servizio di cultura e spettacoli diventa infatti maggiore nel festival di musica antica Musice Ameni Loci diciottesima edizione di una rassegna che in questo 2021 si interseca al settecentesimo anniversario dantesco musica antica e luoghi suggestivi ritagliati negli spazi di Gradara Monbaroccio Candelara Ginestreto Santa Maria dell'Arzilla Colbordo Lo Beato Sante e Orciano ma il festival si aprirà nello specifico domenica a Monte Ciccardo con un affascinante appuntamento musicale all'alba Musice Ameni Loci arriva alla maggiore età al diciottesimo anno e non c'è solo questo di anniversario ma anche il settecentesimo anniversario dantesco che il festival non ha assolutamente ignorato a vedere quello che è il programma Eh sì due anniversari importanti ovviamente il nostro un pochino meno importante però è arrivato alla diciottesima edizione è una grande emozione perché vuol dire che anche tutte le amministrazioni locali ci hanno creduto sempre e quest'anno ancora di più del solito perché quest'anno siamo come sempre a Pesaro nel quartiere primo quartiere con Candelara Novilare e Arzilla siamo nel nuovo municipio di Pesaro a Monte Cicardo con due concerti siamo nel comune di Vallefoglia siamo nel comune di Monbaroccio adesso anche nel comune delle terre roveresche e sempre nel comune di Gradara e appunto il festival maggiorenne è cresciuto anche perché anziché i soliti 8-9 concerti sono diventati 14 eventi centrato ovviamente molto su Dante cominciando da Gradara dal castello di Gradara ovviamente con Paola e Francesca dove cominciamo appunto il nostro racconto della divina commedia con l'inferno e il quinto canto a Gradara e per dopo spostarci con il purgatorio a Monbaroccio e anche un concerto sul paradiso sempre a Monbaroccio ma c'è anche di più c'è anche il riscoperto della musica antica da parte di una corrente musicale in Italia soprattutto in Italia con compositori come Casella Respighi e ovviamente Riccardo Zandonai che è un compositore che alla fine della sua vita ha vissuto al Beato Sante di Monbaroccio allora abbiamo anche un concerto dedicato alla sua persona al suo epoca e l'ha riscoperto proprio in Italia della musica antica musica antica che ovviamente per noi è la linea rosso su quale tutto si svolge e anche questa ricerca si va avanti sul territorio proprio riscoprire degli autori dei compositori ormai sconosciuti che nel periodo storico però nel rinascimento barocco erano molto importanti e che sono legati poi al territorio come per esempio nelle terre roveresche nel comune di Orciano abbiamo scoperto Nicolo Fontei il compositore della quale si conosce soprattutto nel mondo della musica antica il pianto delle rinna che è un brano che cantano praticamente tutti e sì si vede sopra il titolo Nicolo Fontei ma chi è questa persona è nato a Orciano e raccontiamo un po' attraverso un libro che uscirà adesso e anche la musica proprio del Nicolo Fontei lo suoneremo lì nel suo città di nascita oppure torniamo quest'anno anche a Pesaro nella biblioteca Oliveriano in collaborazione con Noto Oliveriane dove parliamo di un musicista di casa un personaggio un po' bizzarro Vincenzo Olivieri e facciamo sentire anche una sua composizione forse sarà poi la prima esecuzione assoluta mai fatto di questo brano cioè è un festival molto ricco ci sono nuove realtà musicali nuove collaborazioni con gruppi musicali da tutta Italia da Pordenone dalla Sardegna sempre dalla Slovenia abbiamo il nostro terzo suono e un altro gruppo da Chieti cerchiamo di allargarci cerchiamo di portare la musica bella in questo bellissimo territorio di Pesaro e le sue prime colline e con questo servizio si conclude qui il nostro telegiornale prima di salutarci vi ricordiamo l'appuntamento delle 21 e 15 con la nostra prima serata per l'occasione dedicata al tennis e al nostro speciale realizzato in occasione del primo memorial Marco De Santis dello Sporting Club Tre Castelli Trofeo Banco Marchigiano Torneo Open di singolare maschile appuntamento alle 21 e 15 e per chi ancora non lo avesse fatto vi invitiamo a scaricare l'app di Rossini TV uno strumento fondamentale per avere sempre a portata di click la possibilità di vedere notizie in nostri programmi o semplicemente per inviare segnalazioni alla nostra redazione ed è davvero tutto per questa nostra edizione di Rossini News da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi